Cosa non si fa per i figli? Certo un po' tutto. Oggi Marina fa la cuoca a casa della figlia Francesca. Cucina il risotto. Grazie mami che ci cucini il risotto. Ciao Ido. Ciao Gabri. Sì? Sei contento? Allora la suocera l'è sempre chi te ti dè però almeno almeno mi fate mangiare. Grazie Marina sei un tesoro. Grazie. Edoardo non lo può mangiare se lo mangerebbe volentieri. Devi aspettare ancora un pochino e nonna Marina cucinerà solo per te. Grazie.